Bella ragazzi, eccoci qui su Amnesia, pronti a cagarci addosso un'altra volta, saranno sbagliate Mi hai già sbagliato strada Dall'altra parte, lì da dove sei arrivato Fabio No, no No, sai che non ci vuoi arrivato? Si, da dove è entrato? No, no, è proprio l'uomo Tu hai visto? No, no, no Mi hai visto, tu sei arrivato da qua, e te l'ho detto, cioè, che cosa strana E abbiamo visto che vi è piaciuto, l'ho fatto ridere Bene, ci staventeremo ancora per voi Solo per voi Destra, destra Sicuro? Si Ragazzi Eh? Ah, ecco qua, è vero, le cagate di... coniglio Oh, c'è Adesso abbiamo un pezzo come l'altra volta Certo qua lanciano con una mano sassi di 40 kg Ma non riesce a uccidere un... Non riesce a guardare negli occhi un mostro Non riesce a guardare negli occhi un mostro Lascio a te Cos'era? Beh, hai visto, stoppa il video No, no Corri Hai sentito un grrrr Si è anche io Hai sentito un grrrr Prrrrrr, quindi significa che ci devi fare il giro giusto. Dovevi capire da dove... Oh, coccano. No, perché qua? Ah, ragazzi, sfida del giorno, vuole... Cosa? Perché ci ha un mostro in giro per il bestienno. Cos'è sfida del giorno? Eh, dobbiamo cercare di guardare un mostro negli occhi, senza... No, 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 ho paura. Per far vedere quanto sono brutti, perché nello scorso video non avete visto bene. Ok, devi andare, devi andare, dietro qua, ce l'hai dietro, corri. Corri come un maiale, corri! Giuri, giuri la porta. È dietro, è dietro, è dietro. Guardalo là. Ma dove? Ah, buono. Ok, prendiamo un po' di... Oh, appunti, appunti. Appunti e luce, mamma mia, ragazzi, che... Io ho sentito qualcuno che chiudeva una porta. Eh, sono giunto al villaggio di Asta. Sì, dai, basta. Mangiamo un po' di pane ammuffito. Ah, che appena. Ah, per quello. Sto tra i mali. E non è il pane. Porco! Non c'era il mostro. No, l'ho fatto pure... Eh, va, va, era lì. Non è che se non lo vado, non lo vado a dire. Finché non c'è... Ecco. Eccolo, eccolo! 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 Era nel fumo, era nel fumo. L'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. L'ho vista anch'io, ma a qualcuno. No, io non l'ho visto. C'è, ho visto una figura, sembra... Vai alla finestra. Senti, senti. Quando c'è quella musica... Quando c'è quella musica... Sai che vuoi muovere il lancio? Prezzo di merda. Puoi muovere la catena, vedi? Gira, ti voglio vedere. Dobbiamo farglielo vedere ai nostri telespettatori. Videospettatori. Youtube spettatori. Vai, vai, vai. Salta. Non lo vedi? C'era una luce accesa qua. Non so se ti ricordate. Cosa c'è dentro? No, c'è un tipo morto. Girati. Orgolias. Che scazza... Mangiati tutti. Ma c'è il pisello quello lì. Non mi sa ne sia. Cos'è sta cosa qua? No, dai. Censured. Eh, però devo... Scusa, eh. Ma che cazzo è successo la caviglia? Tra l'altro è un po' spixelata, vabbè. Oh, il culo è dietro. Guarda qua, ma si vede un pittà. Che schifo, li può muovere anche la gamba. Censured. No, guarda che qua fuori che ti aspetta. Adesso devi fare una cosa. Corri dentro. Alla fuori che mi aspetta e io devo correre là dentro. No, nella porta in avanti. Eh, lo so, però se è là fuori che mi aspetta, io devo correre dentro. Ehi, poi vuoi stare dentro col morto nudo. Più tosto. Spegni sta merda che c'è la luce qua, Tio. Mi rendete conto che... Uno scarafaggio. Quando entriamo... Oh, è lì, vedo il braccio. No, non lo vedo. Dov'è, dov'è, è lì. Eccolo, il braccio. Ma sei sicuro che è il braccio? Guardalo, no, guardalo in faccia. Adesso ci sono sbaventati, non fa paura se lo guarda in faccia. Oh, c'è l'imbarale. Oh, ecco. E adesso? Vai, è nostro, è nostro, picchialo. Ma è nudo? Corri! Corri! Cos'è di correre? Corri, 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 corri! Non ce li uccide, non ce li uccide. Wow! No, hai fatto credere il coso. Ai andato via dritto, ai andato via dritto, ai andato via dritto. andate a vedere bravo e li ho ricondonato ovviamente ho rullato io ma poi ci sono appunti ah no non siamo entrati qua allora mi fa prendere mi fa prendere più male non siamo entrati qua noi ragazzi vabbè comunque magazzini adesso devi fare devi andare nella cosa davanti nella porta davanti oppure la dove è arrivato qui mettiamo un attimo mamma che ho preso male ragazzi qualcuno ha tirato un urlo che mi ha fatto saltare scusate ho tirato un pugno sulla schiena ok vai apri e vai con la porta non è qua non è qua vabbè chi è soltanto dietro gli angoli oh no dov'è dov'è no no chi 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 Tieni la porta, tieni la porta Sperda Scoppa, la sconditi Giù 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 Ci uccide, ci uccide Dovevo scappare Ecco L'ha distrutto No, tu nasconditi Non guardare Fabio, non guardare Nasconditi, mettiti la toga in mezzo Così ti ripugna nulla Dai, se metti la toga in mezzo non succede niente Io non sono buona, non gioco al computer UAAAAAA UAAAA UAAA UAAAA No Scherzo, ed io scherzo E' ancora vivo UO Cazzo, ancora vivo Brutto cesso di merda senza la vascella UO, E' davanti E' davanti Ci lo faccio io E' indietro, e' indietro la 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 the horn tiri turisti ha vinto 1960 chiudi 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 caso a farne dove ci sanno i topi fai NO la c'è l'aperto chiudка ha preso cattivo aspetta questo è imbaricare bene la giornata eh bravo eh no perchè poi la apri e arriva io ho capito se la barichi con la roba ah giusto eh con le scatole in fondo qua a sinistra UURRRR non mettere in pausa qua dentro i meiali bravo bravo aspetta un attimo devo vedere se è la si no arriva 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 ma non c'è arriva un attimo ah la sta aprendo è un istinto naturale apri 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 sta su sta su sta aperta stai fermo stai fermo stai fermo è un istinto naturale quello di schiacciare esco eh no ma va che è più di mezz'ora non lo so però hai di usare l'altro cosa che non va a cercare perdono perché praticamente l'acido fa tutto però uuuu scorri bastardo infame di una merda bella bella bene per questo episodio è tutto speriamo che vi sia piaciuto come l'altro noi siamo mezzi morti questo è peggio perché abbiamo incontrato un sacco di più complimenti di te col tuo coraggio vabbè che l'hai già fatto mi ricordo dove cazzo ero adios questa è brutta questo pezzo è proprio brutto quindi più iscriviti più mi piace più commenti soprattutto vi vogliamo vedere un po' penetrare nel cervello per questo si che gioco simpatica uuuu che figata ma cosa deve fare nooo si è rotto il manico del trapano cioè lo perdi così il trapano per aprire sto ciccione uuuu che figo cioè dimmi uno se si può fare così tante seguimenti si è giusto ah c'è ancora chi batta 300 mila io sono tranquillissimo porco diaz chiudi 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 troppa luce porca puttana in bosca di giugno faccelo vedere ma è mostro qualsiasi o è mostro diverso? nonostante nonostante uuuu che cazzo sono porca puttana cos'è eccolo eccolo figlio di puttana che si viene pesce di merda nonostante adesso devi buttarti in acqua vai butti in acqua la sporca dai cammina sulle pariti della spider ah arriva pezzo di merda nonostante 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 ecco vedi se ce lo chiedete oggi scappavamo dal nulla ragione secondo secondo no ce lo faccio di uno che ti incula no no ti riconosiva cazzo guarda puttana infatti fallo tu fallo siiii uuuu uuuu uuuu